Il primo posto è la casa che ha vinto la Coppa d'Inverno Il Tassi Rossi Noi Tassi Rossi abbiamo trascorso un ottimo quadrimestre pieno di divertimento e nuove esperienze In Mesa invece come di nostra consueta abitudine siamo stati scorsi sempre nei primi piani della classifica Ma i nostri punti forti sono gli sport dove eravamo sempre i primi posti Al contrario come casa dobbiamo migliorare la didattica in classe e l'uso dell'aico Il primo posto è il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è il nostro obiettivo Forza, forza! Grazie a tutti. Grazie a tutti.